Ciao ragazzi, sono il Gaming e oggi siamo in questo nuovo video Allora, siamo di nuovo su Amugaz e uno al terzo video con un mio amico che oltre un po' entrerà Ok ragazzi, sono tornato e aspettiamo che entro il buio e gli altri Nel frattempo se avete il codice diverso per cambiare il mondo perché c'è il mondo quando devo cambiare la partita perché non funzionava Intanto, siete qua, sono benissimo Finicottero in testa bianco scritto Real Gaming Ok ragazzi Aspettiamo che entro Raga, aspettate un attimo Raga, non è tra questi Dove sei, amico? Ma dove? Dove? What? Ma che c... Ma perché c'è Gabby? 16 bit Ma che... Vabbè, raga Vabbè, il mio amico non è entrato Ma sì, è lui È JD Ok, ciao JD Allora, il mio amico è qua Però c'è anche lui Gabby, 16 bit Ma non era bianco l'ultimo Ma vero, giusto? Buon ragazzi C'è Gabby, 16 bit Nella partita Start Ma, va bene C'è Gabby, 16 bit Nella partita Vuol dire che Vole a farsi un giro Dentro un server Raga Comunque Ehm Spiega sull'impostore No, ok Dai, dai Comunque mi sa che Gabby, 16 bit È il mio amico Forse Perché Gabby non è giallo Di solito è bianco Ho pure ragione Gabby ha suonato Cioè, il mio amico ha suonato la carica Cosa C'è Oddio Sì What Wow Comunque Gabby, 16 bit È il mio amico Quindi So So Che Sei Tu Amico Non Sei Gabby Oddio Skip Eh, adesso Tanto vuole farmi Prendi Sì 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 No 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 aspetta ma il mio unico non no aspetta ma lui è gabby what no raga aspetta un attimo secondo me è lui che vuole farmi un prezzo buono allora ne va fare le nostre emergency meeting non penso che sia vero capi comunque ancora non entrato fosse 4 ma ci sospettiscono di brutti puzzoni si sospettiscono di me e allora suoniamo subito la carica dov'è ma tu guarda il gabby 16 bit spero che sia veramente lui raga perchè è lui posso dire di aver avuto l'onore di giocare con gabby 16 bit ma non penso sia lui perché sta ferma oh sei tu l'impostore gabby ormi ti resti l'impostore che ti uccido sono un tuo fan ma ti uccido se è veramente il posto che cavolo non hai gabby 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 ho messo troppo poco tempo nella mia host l'impostore che cavolo che ci sei l'impostore che si so lo spazziscono di chi lo spazziscono di amore non mi riesco a fare altro non mi riesco a fare altro mi riesco a fare ultimo mi chiedi Yello Sì Tu Fuzzone Mi hai tradito No, bene Ero un tuo Fan Ma Tu Ma Ma Tu Sei L'imposto Vabbè Fa un brodo E' che l'ha l'ultimo fuori? No Non è possibile Vabbè Ma raga E' Gabby Lo dico E' Gabby 16 bit Allora Raga Mettiamo una tanica di benzina Perchè mi segui Gabby? Che E' uscito E' uscito Gabby è uscito? Non lo so Ragazzi Oh Si è uscito Gabby Non è di questo Vabbè raga Aspettate un attimo Ragazzi Ho dovuto cambiare Perchè Mi è uscito Po' letteralmente E' uscito E' dato il Giannino Gianno 674 Ragazzi Aspettate Ok raga Va bene Pronti per partire? Quinti per partireux P鳍 P st P P P P T E' uscito P P P P P P Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.